Buongiorno, oggi è lunedì 26 giugno 2017 e abbiamo la luna in leone, per cui abbiamo l'energia del fuoco in modalità fissa, tiene sempre lì, verso l'esterno. Per cui oggi saremo un po' tutti più, agiremo con molta più dignità, un po' più da re e da regine saremo più orgogliosi di noi stessi, più carismatici ma anche un po' più dogmatici in quello che diciamo. Oggi abbiamo anche Marte in cancro, sempre energia acqua che vuole cominciare le cose, che fa un trigono con Nettuno in pesci, in acqua mutevole. Allora, questo vuol dire che un trigono amplifica l'energia che già c'è di acqua. Quindi oggi va bene, per qualsiasi cosa che non dovete parlare, che avete bisogno di immaginazione, ispirazione divina, è quello che viene tutto dall'anima. E oggi con la luna al leone lo farete con tanto charme e tanta dignità. Buona giornata, ciao!